ormai era buio come diventa buio in fretta quando tramonta il sole in settembre il vecchio si stese sul legno consunto della prua e si riposò più che potè spuntarono le prime stelle non sapeva che si chiamava rigel ma la vide sapeva che presto sarebbero spuntate tutte e ci sarebbero stati tutti i suoi amici lontani anche il pesce è mio amico disse ad alta voce non ho mai visto non ho mai sentito parlare di un pesce simile ma devo ucciderlo sono contento che non dobbiamo cercare di uccidere le stelle pensa se ogni giorno un uomo dovesse cercare di uccidere la luna pensò la luna scappa ma pensa se ogni giorno uno dovesse cercare di uccidere il sole siamo nati fortunati penso poi gli dispiacque che il grosso pesce non avesse nulla da mangiare e il dispiacere non indeboli mai la decisione di ucciderlo a quanta gente farà da cibo penso ma sono degni di mangiarlo no no di certo non c'è nessuno degno di mangiarlo con questo suo nobile contegno e questa sua grande dignità non capisco queste cose ma è una fortuna che non dobbiamo cercare di uccidere il sole o la luna e le stelle basta già vivere sul mare e uccidere i nostri veri fratelli grazie a tutti